Il mondo è tonto Il mondo corrisponderà Gente, guardatevi intorno Tra il paradiso e l'inferno C'è un mondo diviso in tre metà Un mondo di prima e di seconda E un mondo di terza qualità Gente, guardatevi intorno La qualità è un'opinione Parlando di musica La prima scelta E il terzo mondo Che oggi si ascolta Nei ghetti Intorno alla stazione Parlando di musica il peggio del mondo, l'ultima scelta è rumore di fondo, il global ghetto è la televisione. La gente guardate intorno, tra il paradiso e l'inferno, c'è un mondo diviso in tre metà, un mondo di prima, di seconda e un mondo di terza qualità. Prima, seconda e terza qualità, un quale mondo corrisponderà. C'è un mondo diviso in tre metà, un mondo di prima e di seconda, un mondo di terza qualità. Un'amela, 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 un'amela. Grazie.